Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovo video Oggi, come sempre, è sabato E siamo in una nuovissima prova A non ridere, indovinate stavolta che ho portato Come potete vedere, il buon Marche Ok, volevo andare Fino a che mi finiva la voce, però non c'avevo voglia Ragazzi, allora Oggi sarà una prova a non ridere No, no, oggi niente, oggi si lasciano i mi piace Si lasciano, ovviamente, ovviamente Questo però lo dico sempre dopo 25.000 mi piace, così 25.000, guarda che sono tanti La tentiamo, la tentiamo Ok, ok, sarebbe il video Cioè, provando a ridere con più mi piace di tutti Te lo dico, ce la dobbiamo fare per forza Ce la possiamo fare, questa provando a ridere, ragazzi Sarà un po' particolare, perché sarà una Provando a ridere, ma versione Minecraft, perché c'è match, non possiamo Fare la cosa normale, solita, no? Quindi mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi, commentate Ovviamente col prossimo ospite E niente, iniziamo subito Allora, io ti dico subito questa cosa qua, allora abbiamo Un massimo di tre vite, quindi se tu ridi Tre volte, hai perso, ok? Ok, aspetta Aspetta, aspetta Ok, sono serio Ti sei? Ok Vado, io metto play Cos'è che fa questo? Non Ok È un pollo, povero bella faccia Una volpe Ok Non mi ha fatto ridere Cos'è sta cosa? Ah, questo è il meme dei bits Dico Della risoluzione Ma non mi ha fatto ridere Non so perché mi viene da ridere Ma non riderò Non voglio ridere Ero in hardcore Ma È morto A me non ha fatto Mi fa dispiacere Mi fa Are you freaking serious? No È stato ammazzato da un baby zombie che aveva un tridente No, non ha riso Ok Ok Ha cambiato il suono Del piccone che spacca Ok No Ho fatto Non vale come risata No, dai Diciamo di no Ok Questo succede a tutti Perché gli è trascinato dei diamanti? No Si è andato È verissimo È verissimo Secondo me succede sempre sta cosa Il diamant le verrebbe Ok Ma Cosa c'è Dramon Gas? Ma Non ho capito sinceramente Non ho capito Non ho capito Questo è un nuovo aggiornamento Ok Ok Wow Let me show you First of all We got a bed here In the chest We have campfires of course Let me show you the basement We got a jacuzzi Ma hai riso Hai riso Hai riso Hai riso Dai come faccio Ma hai fatto ridere che tu hai riso Questo non faceva ridere Allora aspetta Diamo uno a uno Basta Stop Oh ok Questo è un No questi li conosco io Li conosci? Questi sono cattivi questi qua Vediamo Questi fanno ridere Lo sapevo No No Non ci credo Lo metto a posto del totem Non farlo Sei cattivo se lo fai Io non guardo Se non rido Ok 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 va bene Va bene Va bene Va benissimo Che trattenuta ragazzi Mamma mia Cos'è questa? Una moda? Non lo so Ma? Mi sa per far ridere Anche a C'è che bella cosa è più stupido Ti fanno ridere Capisci Dai però Io rido Ti prego Torna indietro Vado a vederlo di nuovo Ma non faceva ridere Nessuno che ha messo Cos'è che ha messo? Ha messo la velocità Tipo Vabbè Ci sta Vado a far ridere Dai ci sta Qua è difficile Oh c'è un creeper Ma? No Non ci credo 32 bits 16 bits Ok 4 bits 2 bits 1 bit 1 bit 2 bit 2 bit No Questi non mi fanno ridere Neanche a me Neanche a me This is crazy Sette esmeraldi Sette esmeraldi eh Un creeper? E' un creeper Esplode sicuro Guarda Dici eh Esplode sicuro No Invece no Invece no No Invece no Oh un zombie Un zombie Un drum cart Ok Non sembra stia facendo No No Non ci credo Ma sei cattivissimo Questa è una tortura Ma poverino Ma sei la persona più brutta Che avevo mai conosciuto Nella mia vita Ma pure il meccanismo Gli fa capito Diciamo No No Mi distorcio Mi distorcio Taglia Taglia tutto Taglia Ok Taglia Ma Taglia in tempo Ma Ma cosa sto vedendo? Io vorrei veramente conoscere le persone che fanno questi video Ma Cosa sta facendo? Ah vuole prendere il suo amico Mi sono morti tutti i cari No 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 Sono rinati? No Molti sono morti Eh Sono morti Ma Ma sto giocando a palla a volo Ma Ok Ah questa è la 1.17 Sì Le driplif Sì Le driplif Sì No Stavo per ridere Te lo giuro Anch'io 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 Ah capito Perché Drip Capito No Ma questo non mi fa ridere Non capisco No L'ha salvato Che bravo Mi son tenuto io Mi son trattuto anche qua Ma come vanno a fare le canzoni con la cosa dell'ametiste? Ancora non l'ho capito Ma l'hai fatta a cazzo C'è Ma l'hai fatta a cazzo C'è Ma dove veramente Veramente Io Cos'è questo zecchio della spazzatura? Che sta succedendo? Command 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 Ok Mi ci fa Buzz Lightyear qua Esatto Ah cerca diamanti No No Ancora sto No Ma No 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 Questo è molto cattivo Ok Va bene Mi sto tradendo un botto te lo dico io Mh Eh poverti tecnicamente si tippa l'Hendermel Dovrebbe essere così Sì eh Bedrock Fund mp4 Ma Sta mangiando un papà Se vuole morire è morto Rip Ma Hai quasi riso eh Hai quasi riso Vero vero Cos'è Indiana Jones eh? Sì Cos'è che sto vedendo? Race 4 Far free diamond Ah ok Dove premere il pulsante per i per i diamanti gratis Cos'è questo? Piccone in diamante? Piccone in diamante Perchè morirà tipo subito? Esatto Non ho capito Gli hanno rubato qualcosa? Ai libri Nooo Nooo Donna questo veramente Mi stavo mettendo a ridere te lo giuro Mi ho fermato un botto Sto facendo troppa fatica Non possiamo provare a ridere possiamo fare per favore? Che fatica io odio non ridere Hey Levi Have you ever heard of Joe? Joe what? Joe mama Diamanti 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 classici Ok Belli tirati Ma col piccone in pietra? Col piccone in pietra Ma che stupido lui che li prende così? Cioè Stai a casa ridendo Marci? Nooo Ho soffiato Compramo scarro su camionetta Sì Ah la pozzone di forze Sì Ok Madonna se è vera sta cosa A me The Weekend fa morire Come fa? Ma è in editing Yes Rico Kaboom Two seconds later They said No Nooo Bruta Beb Ma 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 Come Ma come il piccere si è mangiato il gatto Ma non l'ho capito ho paura no divento maiale E mi sono trattenuto qua anche io no povero gole in aria Se già l'abbiamo visto e mi sa per far ridare di nuovo o mio dio acqua esplodono i polli riguarda Ma sembrava una pop corne tipo Yes, I can don't bring me down But I'm feeling this one Don't bring me down Don't bring me down Oh la bedrock Ma che piccone è moddata E non riesce a rompere Ma FBI open up Ci sta Forse è anche un po' troppo spiagno Ciao, super libero Siamo super libero F*** my man Is that the Grim Reaper? H mij Questo era il Wide Marchee Hai perso Noooh, ho perso Ma ha fatto pisciare questo qua A me iгуaiD fa ridere Eh lo so, conta che ho avuto lo stesso effetto però praticamente col tuo tiktok Quindi diciamo che Er' quite unexpected expected, comunque è la prima prova a non ridere effettiva probabilmente che io non perdo, anche se in realtà come al solito noi ci diamo sempre limite tre vite, io però in faccia non ti vedo quindi immagino tu avrai riso 40 volte stessa cosa vale, no, allora, semplicemente mette un lavoro avanti per coprirvi qualche volta esatto, esatto, comunque ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, se è così fatecelo sapere abbiamo detto 25.000 mi piace che sono tantissimi, però noi comunque ci proviamo, mi raccomando ditemi nei commenti che invitare anche la prossima volta e io ovviamente vi ringrazio ovviamente Marci per aver partecipato al video e niente, ci vediamo alla prossima ciao a tutti